Ne ebbe turbata l'anima. La calunnia giunse a quell'angelo della mia compagna e anche lei ne ebbe turbata l'anima. Perché? Commento. La calunnia è una imputazione coscientemente falsa. Nei piani più sottili è una forma pensiero che colpisce il destinatario della calunnia e si accresce a mano a mano che più persone vengono a conoscenza della calunnia. Per la legge il calunniatore e il calunniato subiscono questa vibrazione non a caso a fine nei loro corpi superiori. Grazie a tutti.